Nel mio lavoro il fattore umano è fondamentale, partiamo dall'essere umano anche se il metodo nel coaching è molto rigoroso. In base alla persona noi possiamo fare un percorso insieme ed è olistico il percorso di coaching perché anche occupandomi della carriera delle persone in realtà ogni persona è un mondo a sé per cui veramente possiamo trovare degli elementi della vita personale che hanno una ripercussione nell'ambito professionale e viceversa. Il coaching si propone proprio di partire dalla persona e costruire insieme alla persona quanto di più significativo per quella persona ci possa essere in un certo periodo della sua vita anche in una fase di transizione, anche in una fase quando è difficile proprio per la persona stessa identificare anche gli obiettivi. Però non possiamo proprio esimerci dal partire dalla persona in sé, dalla sua centralità. Infatti nel coaching ci sono delle tecniche su ritrovare la centralità della persona intorno al suo sistema valoriale.